Bentornati nella mia libreria, oggi siamo qui per un romanzo che mi ha regalato Feltrinelli sotto Natale se non sbaglio, sì, sotto Natale Il romanzo è più una storia per bimbi, di oggi è Piangolina, che io la chiamo in dialetto piagnolina che mi piace di più Sì, lo so, non ci fate caso Piangolina è stata una rivelazione molto molto carina Di che parla? Innanzitutto è di Rossella Pastorino, è illustrata da Gianluca Fogli E di Feltrinelli, a me l'ha regalata proprio Feltrinelli con un minimo di spesa ma penso che a tutti Penso che sia un'edizione fatta apposta Ha anche dei segnalibri con i libri all'interno Qui, ma mi ricordo anche dietro? No Mi ricordo male E c'è questa piangolina Che è questa bimba Che piange sempre Da quando è nata Questa è una lacrima di Piangolina E questa è una storia natalizia, quindi c'è l'albero di Natale Piangiolina Questa bimba piangeva già da piccolina Sembra, 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 sempre, sempre A scuola piangeva Ovunque piangeva Pensate che addirittura i genitori che hanno una ritta, soprattutto il papà Raccolgono le sue lacrime Perché così ci creano delle creme antibrufoli, tante cose per far ricrescere i capelli Magari, anch'io lo vorrei Insomma, tante cose che in fabbrica si trasformano in uguenti, pomade e cose varie Cosa succede? Un giorno A scuola, Piangolina Che anche lì viene con i secchi per raccogliere le lacrime Conosce Gianni, il suo nuovo amichetto Questo Gianni è un bimbo particolare Perché invece che come gli altri prendono in giro Lasciano un po' perdere Piangolina Lui gli chiede Ma perché piangi? Apriti cielo Piangolina non ci capisce più niente E va in tilt Gianni si insinua così tanto nella sua vita Che gli inizia a fare Smettila di piangere, Piangolina Basta Perché piangi? Insomma, gli dà talmente positività a questa bimba Gli racconta la storia di lui che gioca con il suo pupazzo di neve Piangolina vuole tantissimo conoscere questo nuovo amico di Gianni Perché dove c'era Gianni faceva sempre la neve Era bellissimo Invece Piangolina non l'ha mai vista La neve non lo conosce Il pupazzo di neve Che cosa? L'ha solo visto nei libri Cosa succede? Alla fine Piangolina non piange più Il padre di Gianni era venuto per lavorare alla ritta del papà di Piangolina E siccome Piangolina ha iniziato a smettere di piangere Piange molto meno di frequente Che succede? Gianni se ne deve andare Costretto ad andarsene Perché il padre di Piangolina licenza il papà di Gianni E Gianni deve tornare a casa sua Al che Piangolina ritorna triste Piange, piange Fino a quando Gianni non torna Non torna perché fa una sorpresa a Piangolina Però adesso c'è da risolvere il problema E io qui mi fermo Non vi faccio vedere più illustrazioni C'è da risolvere il problema Della fabbrica del padre di Piangolina Perché Piangolina Campa la famiglia È molto carino Sembra una sorella così per i bimbi Ma in realtà è molto significativa È molto bella Che ci fa capire Sarà che è un periodo Che io vedo i video sulle baby star Ho letto anche il libro di Janet McCurdy Che ha pubblicato poco fa Poco tempo fa La Oscar Vault Che ve l'ho anche recensito E mi ha ricordato molto quello I bambini sfruttati dai genitori Per i loro guadagni E devo dire che questa storia È molto originale Mi ha colpito Mi è piaciuta Infatti Mi ha dato un riscontro molto positivo Sicuramente è un libro per i bimbi Non è come le novel Per adulti Per carità Però c'ha il suo perché Sinceramente È un bellissimo libro Poi i disegni sono molto carini Ora non so se si vede bene Ma sono davvero davvero carini Però Fa riflettere Fa riflettere tanto E secondo me questo andrebbe letto Genitori con i figli Perché i bambini hanno tanto Da insegnare agli adulti E come ci fa capire in questa storia I bambini lo sentono più di noi Quando ci hanno bisogno di qualcosa O quando un amico è in difficoltà Mi ricordo che anche io da piccola Riuscivo a distinguere Quando un ragazzo era di una famiglia problematica Oppure veniva da una famiglia serena Era magari un po' viziato O magari Quando faceva un gesto brutto Nei miei confronti Mia madre mi diceva sempre Non sai quello in famiglia Che può passare Lascia perdere Non ti ce la prenderà male Anzi Cerca di esserci amica E cerca di dargli Un po' di sostegno Insomma Se fa così Tu evita di essere così Antipatica O comunque di chiuderti Cerca di parlarci Mia madre ci ha sempre insegnato Ma anche papà A essere sempre buoni Con il prossimo E ad aiutare Insomma E i bambini la sentono Questa cosa Così come Gianni Sente che piangerina Ha qualcosa che non va E il fatto che pianga 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 E venga sfruttata Per questa cosa Non gli sta bene E quindi apre gli occhi Alla sua amica E una bellissima Storia natalizia Io ve la consiglio Non c'è molto più da dire Quindi vi aspetto Per una prossima recensione Qui Sempre sul mio canale Vi ricordo Di seguirmi Alla libreria di Gemma Se chiamo i gurumi E il grimorio di Autun Vi lascio tutto sotto Nell'info box E grazie Feltrinelli Per questo bellissimo libro Noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao